Ehi, sono Fragola 86, sono di Popeye, tu, tu chi sei? Uè, sono Banana 33, ma 33 l'età non è, capisci a me? Uè, da dove dici? Te l'ho detto e ti sei già scordato, io pensavo che Pompei era un verbo al passato. Uè, sai, sono Fragola 86, sono 15, che non mi dici, tu, chi fa la parola? Uè, da dove dici?